Non esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di lina. Il servizio taxi non ha alcuna limitazione in quanto l'attività svolta è considerata esigenza lavorativa. Per quanto concerne farmacie e parafarmacie non è prevista alcuna restrizione al loro orario di lavoro, mentre bar e ristoranti possono proseguire l'attività dalle ore 6 alle ore 18 con l'obbligo a carico dei gestori di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. La violazione della prescrizione comporta la sospensione dell'attività. Il decreto nazionale infatti prevede che siano adottate misure organizzative tali da consentire un accesso ai luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Gli esercizi commerciali che per condizioni strutturali non possono garantire la distanza di un metro fra i presenti dovranno essere chiusi. Supermercati, permercati e centri commerciali, giorni festivi e prefestivi devono restare chiusi e nei giorni di apertura devono comunque adottare misure idonee ad evitare il sovraffollamento e garantire la distanza minima di un metro fra i presenti. In assenza di condizioni strutturali, idonee, gli esercizi devono essere chiusi. Gli esercizi commerciali dediti alla vendita di genere alimentari possono restare aperti anche il sabato e la domenica, garantendo comunque l'accesso limitato al pubblico tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale minima. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se si sospetti di avere contratto il nuovo coronavirus e siano presenti sintomi, quali tosse o starnuti, ovvero nel caso ci si prenda cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus. L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottato in aggiunta ad altre misure di igiene, respiratori e delle mani. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. L'uso razionale delle mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose. Confermata la sospensione fino al 3 aprile di tutte le attività didattiche di scuole di ogni ordine e grado. Fino al 3 aprile sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate. Sono sospese le attività di semiconvitto, tranne nel caso di prescrizioni delle competenti autorità. Sono sospese le cerimonie legate alle celebrazioni di matrimoni e per esegue. I matrimoni già fissati presso locali comunali si svolgeranno quindi unicamente in presenza degli sposi, dei testimoni e del personale comunale. Le tumulazioni si svolgeranno in forma settamente privata. Per quanto concerne le attività sportive, il CONI ha sospeso fino al 3 aprile tutte le attività degli sport di squadra di qualsiasi livello. I centri estetici non sono chiusi per alcuna norma nazionale o regionale. Resta fermo l'obbligo per gli operatori e gestori di garantire il rispetto delle prescrizioni di prevenzione individuale e relative ai luoghi nei quali sono accolti i clienti.